Buonasera Guido, buonasera Teum, buonasera Valerio Cassetta, altrimenti poi non mi fa scrivere più sul messaggero. Buonasera anche a tutti i tuoi ospiti. Che dire, una vittoria importante quella ieri da parte della Lazio, un 4-1 netto, schiacciante, una bellissima vittoria. Bene così, bisogna andare avanti. Adesso ci sono tre partite fondamentali, quella con il Marsiglia per chiudere la qualificazione, con il Sassuolo e poi lo scontro diretto con il Milan, che è uno scontro diretto Champions, non bisogna assolutamente sbagliare, però è una Lazio che mi è piaciuta tanto. Gesto più bello, quello di Lulic che copre il bambino con la giacca prima della partita per proteggerlo dalla pioggia. Bellissimi anche i saluti a Gigi Buffon. Ciao a tutti, un saluto e buona serata. Grazie.